Come hai avuto l'assist? Come hai avuto l'assistente? Oggi Graziano rimaneva su Maltese, quindi anche lui andava in difficoltà. Comunque si preparano una partita e per noi è molto difficile. Noi dobbiamo essere bravi a sbloccare la partita e poi mantenere sempre il possesso palla, che poi i gol arrivano. Poi gruppo fantastico e alla lunga usciamo.